Fondazione Honda, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la terza edizione dell'Open Week che si terrà dal 22 al 28 novembre con l'obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinare la rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Oltre a 200 ospedali con il bollino rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all'iniziativa, offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, infopoint e distribuzione di materiale informativo. Anche l'ASL VCO partecipa all'iniziativo offrendo nei giorni 22, 24 e 27 novembre, dalle ore 14 alle ore 16, presso il DEA di Verbania, uno sportello informativo sul contrasto alla violenza di genere. L'obiettivo di Fondazione Onda nell'edizione di quest'anno è quello di sensibilizzare il pubblico sull'esistenza dei diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono infatti violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità.